Domani Rosario Livatino, il giudice ragazzino, sarà proclamato beato dal Cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, per Monsignor Schillaci, bescovo di La Mezza Terme e testimone di fede e impegno quotidiano. Sentiamo. La beatificazione di Rosario Livatino mette in luce la profonda unità tra la fede e l'impegno quotidiano. Nella misura in cui il cristiano vive un rapporto autentico con Dio, riesce ad impegnarsi in modo concreto e a servire il bene comune nella società. Lo ha affermato il vescovo di La Mezza Terme, Monsignor Giuseppe Schillaci, alla vigilia della beatificazione del giudice ragazzino. Nato a Canicattì il 3 ottobre 1952, Livatino si laureò in giurisprudenza all'Università di Palermo con il massimo dei voti. Durante la sua carriera, prima a Caltanissetta e poi ad Agrigento, toccò con mano alcune tra le più importanti inchieste sugli affari della mafia siciliana e di quella che di lì a poco sarebbe stata conosciuta come la Tangentopoli siciliana. Dal 21 agosto 1989 rivestì la carica di giudice al Tribunale di Agrigento, ottenendola a soli 36 anni. Questo rapido successo gli valse l'appellativo di giudice ragazzino. Per la sua fede, il Rosario Livatino verrà proclamato beato domani dal Cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Per Monsignor Schillaci, Livatino è la testimonianza di una fede che non è idea, astrazione, ma che si incarna e diventa credibile. Egli è stato un seme di fraternità. Livatino, ha aggiunto il Vescovo, si è lasciato interpellare dalla realtà e ha risposto servendo lo Stato, la comunità, fino al dono della vita. La sua testimonianza è un ammonimento per tutti noi a sconfiggere il male con il bene, mettendosi a servizio del bene in maniera totale e incondizionata. Il suo esempio, ha concluso, sia luce per tutti noi che ne abbiamo particolarmente bisogno in questo momento difficile che stiamo attraversando.